Perché ho scelto Azzurra Basket? Perché voglio crescere con loro. Perché la professionalità è al primo posto. Perché mi fanno stare bene. Perché? Perché una grande famiglia. Perché ho deciso di allenarmi in sicurezza. Perché? Perché è un sogno da realizzare. Perché mi vogliono. Ecco perché ho scelto Azzurra Basket. Grazie a tutti.